Musica Festeggiamenti per l'Unità d'Italia, molto speciali per la città di Scandicci, che il 17 marzo scorso ha portato le celebrazioni davanti alla fabbrica della Isi. L'azienda vive settimane di tensione, visto che i lavoratori sono in stato di agitazione contro i tagli agli incentivi per le energie rinnovabili decisi dal governo. Davanti ai cancelli dello stabilimento, alla presenza di tanti lavoratori e cittadini comuni, si sono alternati il sindaco di Scandicci, Simone Gheri, rappresentanti sindacali e uno scatenatissimo Silvano Sarti dell'Ampi. Oggi ci troviamo a festeggiare 150 anni nella nostra Italia, nel nostro Stato d'Italia, più correttamente. Siamo qui perché in quella Costituzione, la nostra Costituzione, ad articolo e non è scritto nella nostra Repubblica Pondato sul lavoro. Ed è anche perché siamo qua, perché vogliamo che sia un segnale forte per i lavoratori, per le loro famiglie, per tutte le istituzioni, per tutta la città in senso ampio e bello della battaglia che dobbiamo fare per dare un futuro a questa fabbrica e alle famiglie di questi lavoratori. Davanti alla fabbrica si è poi esibito il coro Cantatori di Casellina, con brani di risorgimento, e il coro di voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci, che ha eseguito l'inno nazionale. Nel secondo pomeriggio si è tenuta invece la cerimonia istituzionale. Sulla terrazza pensile del comune, il coro di voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci ha ripetuto l'inno nazionale, accompagnato naturalmente dall'alzabandiera, alla presenza di autorità e delle forze dell'ordine. Inoltre, all'interno della sala del Consiglio Comunale, Orazio Barbieri, il presidente del Consiglio Comunale, Fausto Merlotti, ha introdotto lo scrittore Maurizio Maggiani, che ha presentato la sua tournée risorgimentale. Al termine, per concludere questa importante giornata, si è tenuta l'esecuzione di canzoni del risorgimento, curata dal coro di canto popolare, L'altro Canto. Il risorgimento degli italiani è una rivoluzione armata, politica, culturata e sessuale. Nella prima volta nella storia di questo paese, nella storia d'Europa, le donne non solo accompagnano, ma sono primi, prima persona, impegnanti nella politica e nel combattere.